Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto Che con i denti ponga, che è molto spesso Ma giù lo senti! La 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 la, ma giù lo senti! La 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 la, ma giù lo senti! La 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 Questa mattina ci troviamo davanti all'istituto tecnico Massullo di Nola Come vedete prosegue lo stato di agitazione da parte degli studenti Per una vicenda che ormai è sulla bocca di tutti Ovviamente la vicenda dei topi Noi ci troviamo qui con i rappresentanti di istituto che stanno manifestando Perché come avrete letto sulla nostra testata Tutto l'istituto è stato sospeso con l'obbligo di frequenza Per aver manifestato una vicenda così grave Per non voler fare lezione in condizioni igienico-sanitarie precarie Perché state scioperando? Perché è stata fatta una delettizzazione Però ci sono stati comunque i topi avvistati a scuola E quindi ora noi stiamo chiedendo una disinfestazione Per non prendere malattie e per non far nuocere la nostra salute Disinfestazione che invece non è stata effettuata? No, ieri è stata fatta una richiesta per la disinfestazione E la preside ha comunicato solo un'igienizzazione o sanificazione degli ambienti Da fare entro 12 ore Ieri siamo stati alle 2 quando doveva venire questa ditta Siamo stati qui fuori e la ditta non è venuta Era la classica ditta che viene a fare le pulizie di pomeriggio Ed è rimasta qui fino alle 4, non per 12 ore Noi siamo qui a scioperare da mercoledì Anche se la vicenda andava amanti da lunedì Ma noi abbiamo cercato di calmare i ragazzi E andare a parlare con la preside Per non fare questo sciopero Ma lei non ci è venuto incontro subito Quindi ora siamo dovuti ricorrere ad altri mezzi Una preside dunque che non è aperta assolutamente al colloquio? Diciamo che all'inizio non era molto aperta a dialogo Ora invece attraverso questi scioperi Così sembra un po' più aperta Ma comunque non ci viene incontro mettendoci accompagnamenti o sospensioni Per intimorire le ragazze ad entrare Quindi per ora nonostante le vostre manifestazioni Non avete ottenuto nulla? Assolutamente nulla Quindi voi stamattina dovrete entrare in classe Con le condizioni igienico-sanitarie di sempre? Sì Bene, allora vediamo se c'è qualche altro studente che vuole dire la sua Allora praticamente lei non ci dà l'assemblea da più di un anno Perché appunto sta l'anno scorso qui Quindi praticamente non facciamo più assemblee Non ci sono più i nostri diritti Solo doveri imposti Cioè non imposti da lei Però comunque non c'è un modo per parlare Quello è il problema Se si potesse dialogare Marco uno studente del quarto anno L'istituto è compatto? Sì l'istituto è compatto Questa è una manifestazione molto valida Perché ci sono motivazioni molto serie come quella della salute Quindi fortunatamente ci troviamo tutti coscienti di questa problematica E fortunatamente stiamo manifestando tutti quanti assieme compattamente Non vedo forza dell'ordine Voi vi siete rivolti anche a loro? Sì, ci siamo rivolti a molti organi come i carabinieri, la polizia e anche il comune E loro ci hanno chiesto semplicemente di fare una manifestazione pacifica Per non disturbare la guida pubblica E infatti noi stiamo manifestando in modo pacifico Anche per non andare Sempre per far valere le nostre ragioni Quindi noi manifestare in modo più pacifico di questo non possiamo fare Infatti confermo siamo qui da questa mattina Una manifestazione pacifica E soprattutto un comportamento educato da parte degli studenti Ma qui c'è anche la presenza di alcuni genitori Non è una semplice scusa per non entrare in classe a fare lezioni? No, perché effettivamente c'è un problema E noi siamo qui con alunni e genitori Proprio per cercare di risolvere questo problema insieme alla direttrice dell'istituto Il dialogo con la dirigente scolastica, con i genitori C'è oppure non c'è? Sì, ci abbiamo parlato molte volte Stiamo cercando di trovare una soluzione tutti insieme Quale potrebbe essere questa soluzione? Una disinfettazione, igienizzazione In modo che si sanifichino gli ambienti ormai contaminati A quanto si pare Sì, perché spieghiamo che in questo istituto è stata fatta una derattizzazione Che è quella con le scatolette Invece gli alunni, i genitori chiedono una disinfestazione Voi avete fatto delle precise richieste Quali sono? Sì, noi chiedevamo che dopo la derattizzazione Che ormai è una cosa acclarata Che è stata fatta È stata fatta ponendo delle scatolette Con delle esche all'interno Così come attualmente viene fatto E che noi pensavamo che fosse stato Generalmente un istituto Dovrebbe fare queste derattizzazioni In modo preventivo Quindi non è necessario Aspettare prima un problema Un'emergenza Per poi apporre ai correttivi E quindi chiedevamo Che dopo questa derattizzazione Visto che si erano effettuati nuovi avvistamenti Di questi topi Chiedevamo una disinfestazione E una sanificazione degli ambienti Noi non è che non vogliamo Diciamo alzare muro contro muro Però sarebbe increcioso Che un domani un nostro figlio Potesse contrare una qualsiasi malattia Diciamo da contatto Visto che sono stati avvistati escrementi Cioè è assurdo diciamo pensare Che oggi si possono verificare Diciamo episodi del genere E la cosa diciamo che ci dispiace È che il correttivo Doveva essere apposto in modo diciamo Pagato, in modo ordinario Qua non si parla di un'emergenza Si parla che c'è stato un diciamo Un avvistamento C'è stato diciamo delle situazioni Che tra l'altro sono state anche documentate Filmate Andava diciamo correttamente Posto il correttivo In modo diciamo Così come Qualsiasi disciplinare Qualsiasi diciamo Situazione Che prevede Affrontare una situazione del genere Regolamenta Diciamo La sua diciamo Soluzione A questo problema Giusto dopo aver ascoltato Il punto di vista Di alunni e genitori Ascoltare anche il punto di vista Di una docente Docente di lettere Di questo istituto Voi docenti Avete preso Una posizione Riguardo questa vicenda Allora Il fatto che noi siamo Comunque all'interno Dell'istituto Penso che sia Prova Di un punto di vista Nel senso che Se noi siamo A cercare di fare lezione Comunque ad aspettare I nostri ragazzi Non riteniamo Che le condizioni Igenico-sanitarie Della scuola Non siano a norma La questione Che è stata sottolineata Già da ieri Con alcuni genitori E che poi anche A onore del vero Un dato oggettivo Che la dirigente Dal primo momento Ha curato L'igiene Dei bagni Posizionando Gli asciugatori Piuttosto che Il sapone Piuttosto che La carta igienica Quindi approva A mio parere Anche Di questa sua Attenzione Alla polizia Sì ma Ha creato Appunto Lo so che La questione Dei topi Non è Soltanto Collegata a quello Però voglio dire Una persona che ci tiene A determinate cose Non penso che poi Possa o voglia Sottovalutare Interventi mirati Nei confronti Di un allarme Che si è venuto a creare La deratizzazione È stata realizzata Con il posizionamento Delle esche E delle bustine Così come a norma Deve essere effettuata E l'igienizzazione Già effettuata Precedentemente È stata Nuovamente Realizzata Nel pomeriggio Di ieri Sulle modalità Di attuazione Ci sono Pareri discordanti Però sicuramente Penso che Visto che tutti Vogliamo la stessa cosa Onor del vero Il dirigente I docenti I ragazzi E i genitori Insomma siamo tutti Dalla stessa parte L'augurio che noi Tutti vogliamo Rivolgere Agli animi Un po' Esacerbati E di comunicare Colloquiare Dialogare Dall'una e dall'altra parte Perché è l'unico modo Per risolvere le situazioni Non possiamo essere Portatori di pace Se poi non pratichiamo Il dialogo Ecco appunto Il dialogo Gli studenti Che si trovano Al di fuori Di quei cancelli Anzi Se li facciamo ancora vedere Perché sono passate Le ore nove E gli studenti Sono ancora lì fuori Pur avendo Una sospensione Con obbligo Di frequenza La dirigente Dov'è? In questo momento È impegnata E io L'ho contattata Telefonicamente E ha detto Che sarebbe venuta Appena libera Dall'impegni Che non le hanno permesso Di stare qua Adesso Questo è quanto È stato riferito Perché questo E questo è il dialogo Che ci dovrebbe essere Anche far rispettare Una regola I ragazzi Hanno l'obbligo Di frequentare Nonostante l'obbligo I ragazzi Sono ancora Al di fuori Dei cancelli La dirigente scolastica Non c'è Noi volevamo dare Anche il diritto Di replica A lei Come è giusto Però non c'è Un obbligo di orario Nel senso Di entrare Il dirigente Non ha l'obbligo Di orario Di essere qui Alle otto Questo è bene Certo però In una situazione Del genere No voglio dire Non possiamo Sottolineare Un discorso di orario Ma sono convinta Che comunque Appena arriverà Ci sarà Un'ulteriore Forma di Contatto Lei sa che Noi siamo qui La dirigente Io adesso Quando ho parlato Per telefono Ho detto che C'erano i genitori Che chiedevano Un ulteriore colloquio Mi ha riferito Che era impegnata Ma poi Sarebbe Arrivata Appena possibile Onestamente Non ho riferito Della presenza Se la chiamiamo E riferiamo Della nostra presenza Vediamo se arriva Davanti alle telecamere Possiamo riprovare Ma insomma Facciamo questa prova Purtroppo La dirigente scolastica Non è raggiungibile L'abbiamo Telefonata Noi però Siamo aperti In qualsiasi momento A parlare con lei A dare anche a lei Come è giusto Che sia Il diritto di replica Intanto noi Chiudiamo i nostri servizi Con una cosa molto carina Questo è un augurio Se lei lo può dare Da parte nostra Alla dirigente Scolastica Il coccodrillo Di Basirpini A morde Ma non troppo Quindi sperando Che questo problema Verrà risolto Al più presto Sicuramente Verrà risolto Se c'è la buona volontà Da parte di tutte le componenti Questo è certo Io la ringrazio Ci fa sapere poi Se la dirigente Ha gradito Va bene Qui dall'istituto Tecnico Massullo Di Nola È tutto Noi speriamo Di tornare Senza i topi Il coccodrillo Come va La 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 Non c'è nessuno Che lo sa La 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 È mezzo addormentato Se ne va